Se ce la facciamo, provo a fare il record. Ok, dicevo, prima domanda, caricato e installato Blender? La domanda più importante è chi non è riuscito a installare Blender, perché se qualcuno non c'è riuscito ovviamente bisogna vedere qual è il motivo. Però mi sembra che sia un'operazione abbastanza semplice. Di conseguenza suppongo che... Chi non l'ha installato, domanda esplicita di Eva. Ok, se non l'avete installato eventualmente solo per pigrizia, però tenete conto che appunto non averlo installato, non averlo neanche visto, è un po' un problema. Comunque, chi non l'avesse detto su Classroom che l'ha installato, magari vada su Classroom e mi confermi nella voce relativa che ha installato. La seconda domanda era se siete riusciti a configurarlo. Quindi la configurazione in italiano e alcuni trucchi. Quindi anche questo abbiamo fatto tutto. Ci sono stati dei problemi nella configurazione in italiano. Vedo tutte voci positive. Tutto ok. Ok, quindi quelle sono le cose più semplici. Dopodiché c'erano le cose che cominciano a diventare un pochino più complicate. Nel senso che avevo fatto vedere un video dove facevo vedere sostanzialmente un po' di cose elementari, che era quello di mettere tutti gli oggettini su, quindi cubi, cos'erano, cilindri, piramidi, eccetera, che venivano messe su un piano, giusto? Anche quello, e poi soprattutto in quell'esercizio lì era stato dato un colore ai singoli pezzettini. Quindi diciamo che erano disposizioni degli elementi principali, quindi diciamo tre elementi principali su un piano. E questo era la cosa. Quindi tutti avete seguito quel pezzo, non c'è bisogno di vederlo brevemente. Ok. Il colore siete riusciti tutti a selezionarlo, perché anche quello è una cosa... Ok. Sento tutti, sì, mi fa piacere. Ok. Allora, poi andiamo in ordine di difficoltà. Il quarto punto era la scacchiera. La scacchiera senza pezzi. Ok. Ecco. Su questo mi sembra che forse c'era qualche piccola difficoltà di qualcuno. Sì. Ciao Lisa, ben arrivata. Dunque, la scacchiera... E quella tra l'altro era abbastanza interessante, perché usavo qualche trucchetto di selezione, di deselezione, scacchiera, no? E poi si entrava in modalità modifica piuttosto che in modalità oggetto e consentiva quindi già di fare dei mestieri, quindi di colorare solo alcuni pezzi. Perfetto. Allora, poi a questo punto veniamo al punto 5. Allora, il punto 5, che era proprio i pezzi, ecco su questo magari li potrei anche farveli vedere esplicitamente, no? Perché qui le cose cominciano a diventare un pochino più complicate. Quindi chi di voi eventualmente non è riuscito a fare alcuni pezzi non si perda d'animo. In realtà, se devo dirvela tutta, quando pensavo di fare questa lezione, non pensavo di farvi arrivare fino ai pezzi, perché fare i propri pezzi era già una cosa complicata, però fare una scacchiera senza pezzi mi sembrava troppo nuda, no? Cosa ne pensate? Era molto più gratificante, era molto più gratificante, insomma, avere un progetto conclusivo. E l'altra cosa che mi interessava era quella di farvi vedere la progettazione di componenti 3D e non soltanto una mera elencazione di trucchi di Blender, in modo tale che voi capiate che è importante trovarsi, riuscire a costruire le cose senza avere, diciamo, la sindrome della carta bianca o la sindrome del cubo. Vi siete mai trovati di fronte a Blender con il suo cubone davanti e non sapere cosa fare, no? Quindi il concetto è che quando si arriva in Blender è utile avere un piccolo progetto in testa, minimo, e poterlo portare a termine. Quindi l'idea di fare una scacchiera è già un modo per riuscire a fare anche delle cose elementari, ma in maniera, diciamo, non banale, cioè il risultato non è detto che sia. Infatti ho visto effettivamente degli esempi che alcuni di voi hanno fatto veramente delle cose che sono di notevole interesse, molto migliori. Io tra parentesi non è che sia bravissimo a modellare, quindi anche io faccio i miei sgorbi, però effettivamente mi piace quando riesco, se vedo che è molto istruttivo, quando riesco a vedere che il metodo, insomma, che si usa può servirvi a tutti. Allora, bando alla chiacchiera, entriamo subito nel merito di Blender, se riesco a trovare dove... Eccolo qua, Blender questo qui. Mettiamo una cosa, lo metto un attimino, così, se mi parlate magari vi vedo. Ok, divido un po' lo schermo in due. Ok, allora, quindi adesso voi dovreste vedere sullo schermo il Blender. Tutto in italiano, ho ingrandito l'interfaccia utente, ho messo il tema, che vedete questo qui, non ricordo neanche come si chiama, preferenze utente. Siamo andati sul tema e gli ho messo una preimpostazione che era Science Lab, laboratorio, e poi con il suo sistema vi ricordate che ho messo l'interfaccia in italiano, cosa che credo che molti di voi gradiscano. Poi, visto che sono qua, vi ricordo che vi ho fatto cliccare sulla selezione, ruota attorno alla selezione, questo, e non mi ricordo di aver fatto grosse cose. Ecco, spero che tutti voi abbiate il tasterino numerico e il mouse, possibilmente con tre tasti. Se qualcuno di voi ha il mouse con un solo tasto, tipicamente utenti Mac, o non ce l'hanno proprio, diventa un pochino più complicato Blender. Non so se qualcuno di voi ha trovato problemi. Allora, senza tasterino numerico, ecco, senza tasterino numerico in realtà si può ancora lavorare, ma diventa un pochino più complicato, nel senso che, se non l'avete, vi conviene andare nell'ingresso, se non vado errato qua, ricordo più dove è, aspetta, più clic, ecco, emula mouse a tre bottoni, esempio per chi ha il mouse, invece c'è, da qualche paio, emula tasterino numerico, eccolo qua, sotto ingresso, emula tasterino numerico e quando io uso il tasterino numerico e dico i numerelli e il tasterino numerico da 1 a 7, si possono usare mettendo l'opzione qua anche i tastini in alto. Va bene. Solo una cosa, è interessante questo ruotaton alla selezione, averlo selezionato, perché altrimenti quando fate l'orbiting diventa complicato. quindi è un po' solo la base e la scacchiera. Ma comunque andiamo un po' avanti a vedere alcune cose. Ora, in questa lezione io farò vedere anche delle cose in più rispetto ai video, ma sono comunque cose ordinarie di Blender che quindi o vedrete in questa registrazione sempre che verrà oppure nei prossimi video alcune di queste cose verranno risottolineate. in particolare la cosa che può essere interessante è il meccanismo il video che c'è sul pannello non si vede perché sul pannello l'ho messo solo per darvi l'indirizzo del di zoom quindi se lo cliccate vi dà un indirizzo purtroppo zoom in altre situazioni si potrebbe vedere ma in questo caso dovete vedere lo schermo solo da da zoom appunto quindi dall'applicazione o dal video ok comunque mi confermate tutti mi continuate a confermare che state vedendo il mio schermo giusto? allora la cosa che volevo tornare era proprio progettare per esempio il pedone perché lì ho visto che già progettando un pedone alcuni di voi si sono incastrati sarebbe interessante da capire il perché perché invece ho visto che molti sono riusciti comunque vediamo un attimo allora togliamo togliamo questo e vediamo il cubo però togliamo il cubo con la x quindi fremo x e cancelliamo il cubo e poi aggiungiamo un cilindro il cilindro vedete che qui quando aggiungi cilindro compaiono il numero di vertici che gli portiamo a un numero piccolo per esempio 8 allora vi dico perché riduciamo il numero di vertici perché il corso che stiamo facendo è un corso che si chiama low poly low poly vuol dire che quello che stiamo cercando di fare è di produrre degli oggetti che abbiano pochissimi vertici i vertici sono sostanzialmente tutti questi punti che rappresentano l'intelaiatura della mesh mesh in inglese super ju vuol dire rete quindi ogni oggetto è sostanzialmente formato da una serie di maglie forse maglie che si vedono bene quando si va in modalità vediamo qua se qui andiamo in modalità no così ecco se andiamo in modalità modifica vedete che compaiono questi questi puntini ognuno di questi puntini gialli nel caso sono proprio i vertici quindi distinguiamo i vertici che sono questi dagli spigoli che sono le linee verdi e distinguiamo ancora dalle facce che sono praticamente come dice la parola le cose queste placche che rappresentano praticamente le parti solide di questo solido quindi questo qui che vediamo è un cilindro questo cilindro lo possiamo scalare quindi c'è un comando scalatura cioè che fa la scala cioè che lo alza tutto lo abbassa o lo ingrandisce quindi premendo S di scala e poi muovendo il mouse vedete che scala tutto no diventa più grande più piccolo premendo il tasto di destra si fa il diciamo l'escape cioè si torna indietro se invece si vuole confermare basta cliccare il tasto di sinistra no quindi vedete che lui conferma ctrl z torna indietro nei video ho fatto vedere che si può scalare lungo una direzione quindi se io faccio S e poi faccio X vede che lui scala lungo la direzione rossa e il fatto che sia la direzione rossa ve lo conferma sostanzialmente questo simbolino qui in basso a sinistra in realtà scalare lungo una direzione così non è il massimo nel senso che un cilindro è bello scalarlo verso l'alto quindi S Z vedete e quindi lo scalo lo scalo lungo la Z quindi diventa magro oppure un altro trucco che nel video faccio vedere e la scalatura contemporaneamente su due assi perpendicolari a uno quindi l'asse X è questo vedete che lo dice anche qua l'asse Y nel verde quindi rosso è X verde è Y e Z è blu quindi se io voglio scalare questo cilindro in maniera perpendicolare alla Z cioè praticamente lo inciccio lo faccio ingressare devo fare S Shift Z cioè lo Shift dice di usare gli altri cioè gli assi perpendicolari quindi se faccio S Shift Z vedete che lui lo inciccisce o lo dimagrisce però lascia lascia inalterata adesso qui è successo qualcosina sulla sulla modalità forse perché c'è il ok torniamo qua quindi è chiaro questo discorso degli S che ho fatto spesso nei video o ci sono dei dubbi? in modo di usare S continuate a sentirmi vero? sì ok allora poi l'altro pezzo che facevamo era quello sempre tornare indietro puoi sempre tornare indietro con control Z cioè se qui tu a un certo punto hai fatto una roba e te ne penti per dire questo fai control Z e torni alla situazione precedente da parentesi io nei video vi avevo detto ne approfittiamo per dirlo e però attenzione dicevo prima anche la frustrazione di litigare tutto un pomeriggio può essere anche utile perché così poi una volta che avete imparato diventa interessante che non ripetete magari gli stessi errori preferibilmente comunque nell'interfaccia vi avevo detto che non mi ricordo dove nel modifica di modificare ah la calamita di modificare l'annulla e qui invece il default mi sembra che fosse 32 e invece io vi ho suggerito di mettere il massimo possibile che è 256 vi ricordate? allora questo perché così potete tornare indietro nella nelle cose fino a 256 ora probabilmente 256 per fin tanto ma a volte no insomma tenete anche conto che in realtà in blender il control z non è proprio banale nel senso che lui fa il control z di quello che avete fatto mentre siete nella modalità e sono due livelli insomma cioè a volte non è così istintivo adesso non vi dico esattamente come non è istintivo perché potrei essere ancora più confusionale però non è detto che il control z vi risolve integralmente faccia l'undu dell'ultimo movimento però come primo passo voi pensate di poterlo fare ok? allora una volta che andiamo in modalità modifica la modalità modifica è quella che vi permette di agire sulla mesh del singolo oggetto peraltro vi è abbastanza chiara la differenza fra modalità oggetto e modalità modifica perché il a me ad esempio non era chiarissimo all'inizio ancora mi ingolfo nel senso che in blender sostanzialmente voi avete la possibilità di avere n oggetti diversi quindi io posso qua ad esempio prendere un altro oggetto e prendere ad esempio un cono e ampliamo questo qui diventa un altro oggetto e questi sono selezionati singolarmente col tasto destro tra parentesi l'idea di usare il tasto destro di blender può essere un po' confusionante per i nuovi da voi vi ha creato problemi il fatto di il fatto di selezionare col tasto destro è una cosa comunque che bisogna imparare esiste la possibilità di dirgli a blender di usare il tasto sinistro per la selezione ma ci ho provato e alla lunga diventa più più complicato diciamo che il tasto sinistro sposta come vedete il tasto sinistro sposta questo cursore che vedete che il cursore si mette in giro per l'universo e il fatto che il cursore uno quando clicca sposta il cursore può essere un problema quindi ricordatevi che è meglio il cursore averlo tendenzialmente al centro in un posto interessante perché è lì che vengono aggiunti gli elementi se io qui faccio shift A e aggiungo una sfera UV vedete che la sfera UV viene aggiunta dove c'è il cursore quindi è importante sapere dove è il cursore per capire dove viene generato un oggetto poi spesso in realtà è conveniente avere tutto più o meno verso il centro quindi è interessante poter spostare gli oggetti verso il centro e se vi ricordate ho insegnato nei video anche la possibilità di cancellare la posizione cancellare la posizione vuol dire resettare la posizione quindi questa sfera se io clicco cancella posizione me la mette alle coordinate 0 0 0 adesso faccio S ora cosa dicevo sull'identità degli oggetti questi sono tre oggetti diversi no la parentesi ecco una cosa che vi può succedere è che se voi cliccate col tasto destro e poi muovete il mouse trascinate l'oggetto finché non premete invio il tasto sinistro del mouse quindi questa è una cosa che magari non l'ho spiegato ecco questa nella nei video però è una cosa che può essere utile in certe situazioni o comunque se per caso ve la fanno spaventatevi vuol dire semplicemente che avete cliccato e mosso il mouse mentre mentre ci avevate diciamo il tasto destro premuto però in alcuni contesti è anche utile quindi non è necessariamente una cosa negativa ok ora quello che dicevo è che se voi andate in modifica di un oggetto e poi mentre siete in modifica fate un aggiungi che a volte succede e qui aggiungete per dire un toroide che come vedete è stato aggiunto laggiù qui le cose cominciano a diventare un po' complicate perché quel toroide lì fa parte integrale di questo oggetto qua cioè pur essendo completamente separato e dal punto di vista di Blender queste cose sono la stessa cosa cioè fanno parte di un'unica struttura questo vuol dire che se torniamo in modalità oggetto e poi sfruttiamo quel piccolo trucco che vi ho fatto vedere prima del tasto destro il toroide sì si può modificare anche se bisogna imparare vedete che se io muovo col tasto destro mi muove tutti i due pezzi perché i pezzi sono sono considerati far parte di un'unica entità infatti una cosa interessante che io suggerisco è di cambiare nome agli oggetti questo nei video forse non l'ho fatto vedere nel senso che vedete che qui man mano che io clicco qua vedete che compare una specie di repilogo degli oggetti sì non importa per cui mi fa vedere esattamente quali oggetti vedete che adesso sono sulla sfera la sfera allora se vuoi dividerli come due oggetti adesso vi faccio vedere comunque aspettate un attimo quindi questo coso qua che si chiama cilindro in realtà vedete che in questo momento è diventato un cilindro più un toro quindi non è più un cilindro quindi l'idea è quella di fare doppio clic qua e di cambiargli nome quindi questo qui che è il cilindro per noi invece diventa non lo so per dire se questo era scultura multipla era per dire in questo modo vedete che quando lo seleziono lui che mi fa vedere è scultura multipla per dire se è il cavallo il pezzo degli scacchi potevo dargli un nome e quindi riconoscerlo quello che succedeva a me in passato è che inserivo magari dei dei tori o dei toroidi insomma delle cose del genere mentre ero in modifica invece volevo farlo in oggetti e qualcuno ha chiesto adesso come faccio a separarli allora c'è un modo per separarli ed è quello di andare in modifica modalità modifica poi vedete che qua posso fare con A A seleziono tutto o tolgo tutta la selezione A vuol dire all in inglese e poi c'è la possibilità di selezionare questo nei video non l'ho fatto vedere potete andare vicino uno spigolo e poi premere il magico tasto L il tasto L seleziona tutti i vertici che sono connessi al vertice che avete su cui siete col cursore questa è una cosa molto potente perché se io adesso faccio A tolgo la selezione e seleziono qua L vedete che mi seleziona solo il beh che adesso non è neanche più un cilindro ma comunque quello che doveva essere il cilindro perché dico questo perché una volta selezionati quindi vado lì faccio L vedi L sta per select linked no? link di inglese vuol dire seleziona i collegati a questo punto io ho la possibilità da mesh credo vediamo un po' vertici c'è la possibilità non ricordo più come lo chiamo forse dividi ah vedi dividi y dovrebbe essere mi sembra forse un altro se faccio dividi quindi ho fatto uno split a questo punto no non l'ho fatto non era dividi uff aspettate che trovo ah era P separa selezione ok grazie scusate che sono un pochino sono un pochino dislessico quindi separa selezione o P semplicemente quindi premendo P poi selezione adesso dovrebbe essere slegato quindi nel momento in cui è slegato se adesso vado in modalità oggetto vedete che ho i due pezzi separati quindi se per caso anche aveste fatto quell'errore che abbiamo detto cioè di inserire un oggetto mentre siete in modifica ma non lo volevate dentro potete risolverlo con questa tecnica non so se vi è chiaro tra l'altro qui conviene magari questo che è la scultura multipla in realtà gli ridate il nome gli dite che è un cilindro e poi questo che è il toroid gli date il ah poi a proposito di precisione io non è che sia precisissimo anche perché penso molto spesso in inglese volte e quindi qualcuno mi sembra che mi abbia detto che toroid non è la parola non è la parola giusta per dire questo comunque ci siamo capiti forse quando uso toro perché in inglese si dice toro per indicare questo ok comunque fatto sta Eva ha già detto che se per caso abbiamo due oggetti distinti e li vogliamo unire quindi dobbiamo prima selezionare uno degli oggetti col tasto destro poi con shift tasto destro selezioniamo l'altro oggetto vedete che su questa finisco sulla frase poi arriva oppure niente non lo dico adesso proprio a tutti A serve per togliere tutta la selezione o mettere tutta la selezione adesso nel caso degli oggetti modalità oggetto serve di meno ma quando sei in modalità modifica no? se fai A vedi che ti seleziona tutti i vertici dell'oggetto e se fai di nuovo A lui li toglie tutti ed è importante perché a volte tu vuoi hai già dei vertici selezionati e non sai quali sono ad esempio adesso se faccio con shift tasto destro mi seleziono una serie di vertici no? sono un sacco di vertici se voglio toglierli dovrei andare di nuovo ognuno per uno con shift tasto destro e toglierli però per mesh molto complicate è un massacro e allora loro hanno messo la possibilità di fare A per togliere tutto A vuol dire tutto in inglese no? e serve tipicamente o per togliere le selezioni in blocco oppure per metterle in blocco dappertutto che sono cose molto utili allora dicevo se noi abbiamo in modalità oggetto due pezzi distinti che in realtà ci interessa essere nello stesso oggetto selezioniamo prima uno poi con shift selezioniamo l'altro oggetto e poi facciamo ctrl J mi sembra che avete detto ctrl J aspetta devi vedere ctrl J sì proviamo ctrl J ctrl J e vedete avendo fatto ctrl J lui ha preso il toroide questo e l'ha unito quello in realtà lui dentro si tiene conto che c'è l'altra cosa ma per il momento lasciamo perdere così quindi questo qui è l'oggetto unito ok quindi è chiaro questo 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 giro per unire delle mesh che inizialmente sono staccate oppure per staccare delle mesh se per caso sono sono unite e le volevate separate vedete chiare quella differenza fra un oggetto separato come questo come oggetti separati o con oggetti moltipli che hanno delle strutture interne sì allora andiamo un po' avanti nella parte interessante no cioè quindi andiamo qua L ecco qua ad esempio se vogliamo togliere completamente questa struttura possiamo fare X e togliamo tutto ora una cosa che abbiamo visto nei video forse era il vedere tutto vedete che è un po' deformata l'immagine questo cilindro è tutto storto in realtà sapete no perché è tutto storto se non è un difetto del programma in realtà lui ve lo fa vedere è tutto storto perché cerca di farvelo vedere in prospettiva prospettiva vuol dire come lo vedreste se fosse nella realtà no ma spesso quando si progetta la prospettiva non è un gran che d'aiuto perché altera un po' la dimensione e quindi si preme 5 non ho ben capito la domanda di Anna Rita comunque adesso poi vediamo man mano allora per togliere la prospettiva si preme 5 del tastrino numerico e quindi viene ortogonale e poi se vogliamo essere sicuri di vederlo lungo una delle tre prospettive ed una delle tre visuali quindi frontale quindi uno praticamente lo fa vedere sostanzialmente in modo tale che la X si vede sostanzialmente la X che va verso destra e la Z tra l'altro vedete che in questo caso andiamo ecco in questo caso per dire se io volevo lavorare su questo cilindro mi vedo in realtà gli altri oggetti in mezzo che era un po' uno dei problemi che abbiamo cercato di risolvere nei video in cui avevo risolto nascondendo tutti gli altri oggetti e questo si può ottenere adesso non mi ricordo mai qual è il tasto giusto infatti li provo tutti comunque è una combinazione tipo credo che sia Alt-H no? Shift-H ok Shift-H nasconde tutti gli altri oggetti tranne quello selezionato quindi Shift-H è una cosa abbastanza interessante li nasconde nel senso che non è che sono cancellati evita che vi disturba quindi evita che uno abbia diciamo davanti a sé tutte le altre cose dell'oggetto quindi vi concentrate soltanto a modellare l'oggetto che avete selezionato per far apparire tutto il resto vediamo un po' se mi ricordo dovrebbe essere Alt-H no? Ctrl-Shift-H neanche forse devo prima selezionare qua però Alt-H ecco Alt-H era ok quindi abbiamo detto Shift-H quindi Shift-H nasconde tutti gli altri oggetti e Alt-H li fa riapparire mi sembra che l'ho usato in uno dei video no? per poter proprio fare questo mestiere poi quando sono in modalità a questo punto modifica ho fatto il Ctrl-R ecco il Ctrl-R funziona lui vede un po' dove avete il cursore no? vedete che c'è questo mouse e quindi lui cerca di mettere di tagliare in funzione dello spigolo che avete su cui siete vicini quindi se voi avete Ctrl-R e siete qua lui cercherà di tagliare quello spigolo vedete ma se io faccio Ctrl-R mentre sono qua in alto lui taglia quello spigolo e quindi vedete che viene un taglio dall'alto in basso non so se l'avete notato se qualcuno gli è capitato per errore ecco questa è una prima trappola cioè è una trappola nel senso che se uno non lo sa magari non sa dove cliccare non lo vede comunque ma questo adesso io non posso sapere tutti gli errori possibili immaginabili che si possono fare però può capitare allora una volta che vedete che compare il taglio viola nella direzione che vi interessa potete muovere la rotellina del mouse per aumentare il numero di scannalature che vi fa oppure vediamo se lo fa posso anche mettere 4 dalla tastiera ho 7 47 adesso ho preso oppure tac invio la voglio dividere in 10 parti scrivo 10 invio no? e poi ecco però vedete che però me lo muove quindi devo ancora premere il tasto destro del mouse quindi a questo punto ho diviso in 10 parti no? ctrl z se non era questa la mia intenzione ctrl r lo dividiamo in 4 parti esempio come credo che avessi fatto nella cosa invio e poi tasto destro ecco qua è utile la perché vedete che mi ha evidenziato soltanto questa parte qua no? invece magari a me interessa a questo punto selezionare soltanto un anello quindi faccio A per selezionare e poi arriviamo a un punto che molti di voi hanno trovato ostico io qui vado semplicemente lungo lo spigolo col cursore e poi faccio alt e poi premo tasto destro e a me mi viene tutto selezionato il il legge loop cioè il circolo di spigoli non so probabilmente se io ho il cursore messo qua ad esempio e poi faccio alt tasto destro mi seleziono un'altra cosa non so o se ho qua mi seleziono un'altra cosa però mi risulta quasi difficile non fargli selezionare quel 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 anello chi di voi ha avuto io ho visto che almeno due o tre persone non sono riuscito a selezionare l'anello avrete per caso Linux o Mac o qualcosa di strano ma su Mac in teoria non dovrebbe esserci grossi problemi anche lì perché io uso anche adesso non ce l'ho Mac però lavoro anche normalmente su Mac tu su Windows non ci riuscivi però vedi io sono su Windows ah se ti seleziono in verticale era quello che dicevo prima cioè vuol dire che tu avevi il cursore qua quindi facendo così vedi che ti seleziono in verticale ah io ho nessun problema con Mac diceva Lara Roll ma per analisa di Pietro sì non so se per voi selezioniamo una parte tipo qua se io non premo alt vedete che non mi seleziona tutto ma alcuni hanno detto giustamente di mettere la selezione degli spigoli questa con il tasto sinistro e poi però premendo il tasto destro mi selezionava soltanto quello no però ecco un trucco che io ho dato su Facebook era quello di se per caso voi riuscite in qualche modo a selezionare anche soltanto uno spigolo dell'anello poi potete andare nella e tra l'altro anche questo trucco forse non era chiarissimo vedete questo trucco che io sto facendo scivolare il menu ecco questo qui lo tengo premendo sul sul tasto centrale del mouse e facendo lo scroll l'ho spiegato ad alcuni perché quando faccio questo vedete che il cursore si trasforma in una specie di doppia freccia e poi muovendolo naturalmente quindi io vado su seleziona e poi seleziona anello di spigoli loop e vedete che mi completa l'anello vedete che c'è tutto l'anello è completato shift alt tasto destro proviamo anche questo shift alt tasto destro fa la stessa cosa per il menu ah di scivolare sì sì fai così scivoli sì però il trucco di fare la seleziona anello di spigoli è interessante e si può fare però sarebbe interessante capire perché non riesci a fare la selezione nel modo più normale sarebbe un attimo da comunque allora una volta selezionato il cerchio si può fare quel mestiere lì che vi ho fatto vedere l'altra volta che è quello del S quindi se faccio S a questo punto si si gonfia questo pezzo e si restringe sì dunque i passaggi da zero dunque prima si premia ma dunque lo faccio istintivamente per non avere niente selezionato quindi magari lo faccio anche una volta di troppo nel senso che seleziono poi faccio in modo tale di non avere niente di selezionato poi mi metto col mouse sullo spigolo e poi faccio alt tasto destro ma non è allora per usare quella tecnica lì devi avere qua vedi che c'è selezione per punti per vertici poi selezione per spigoli e poi c'è la selezione per facce il sistema quello che diciamo prima devi avere la selezione per spigoli questa vedi che si vede lo spigolo poi vai qui selezioni soltanto uno spigolo e poi qui vai su seleziona fai anello di spigoli loop tac e hai selezionato il anello tanto sono proprio curioso di vedere se si sta dicendo che sta registrando adesso vediamo se è vero però il metodo normale sarebbe semplicemente di andare anche con la selezione a punti qua e fare alt questo e averlo ugualmente selezionato dicevo nel video vi ho fatto vedere che si può fare così e si può ottenere questa cosa qua in realtà se vi piace vi insegno un piccolo trucco per riuscire a ingrossarlo in maniera armonica non so se l'ho fatto vedere nel video mi sembra di no non ho avuto il tempo perché così vedete che vede un pochino grossolano no? cioè nel senso che così fa vede fuori proprio una roba un po' grossolana c'è un modo che è abilitato da questo tasto che è la modifica proporzionale che se premuto è connesso e sostanzialmente quando si fa l'espansione cerca di aumentare anche gli altri punti vedete che compare un cerchio bianco questo cerchio bianco con la rotellina lo posso aumentare o diminuire e dice quanto praticamente l'espansione che faccio su questo vertice può avere in pulso sugli altri quindi se io continuo ad allargarlo vede che lui cerca di allargare anche altri vertici e il risultato tendenzialmente è un pochino più armonico no? questa modalità proporzionale si usa molto quindi se per caso la segna se non ve la ricordate adesso non è essenziale in questo momento sono sofisticazioni però si abilita anche con la O cioè io posso premere O per abilitarlo o disabilitarla no? così abilitata così disabilitata vedete che se è disabilitata lui mi allarga soltanto quello spigolo se invece la abilito con O vedete che qui compare azzurro questo e quando la allargo vedete che allarga anche gli altri e quindi così volendo uno si può a questo punto selezionare questa cosa qua e fare anche qui vedete che compare leggermente più in maniera un po' più organica quindi posso compormi usando il 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 proporzionale riesco a ottenere eventualmente dei pezzi un pochino più 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 ormonici leggermente e poi dipende da quanti da quanto avete da quanti loop cioè da quanti tagli avete fatto sul pezzo quindi sostanzialmente quello che abbiamo visto in questo modo si facevano i pedoni no? tipicamente mentre invece se vi ricordate poi ho fatto tutto uno spiego per allineare questi pedoni sulla sulla scacchiera no? quindi se noi prendiamo ad esempio la scacchiera di Salazar questa che ho messo ecco questa qui è la scacchiera vedete la scacchiera che ecco questa credo che tutti voi l'abbiate fatta no? ma questa qui è la scacchiera mia no? che se andiamo selezioniamo ok e poi facciamo vedete che è fatto in questo modo allora qua il piccolo trucco che avevo fatto per adagiare i pezzi in maniera esatta era in realtà quella di suddividere ulteriormente questa scacchiera in maniera tale che ci sia almeno un vertice al centro di ogni di ogni piastrella vi ricordate che ve l'ho detto nel video questo perché quando poi si fa l'allineamento si fa tutto un gioco in maniera tale di allineare l'oggetto esattamente a quel punto lì quindi essendo il punto esattamente al centro del quadrato siamo sicuri di avere il pezzo giusto allora magari costruiamo velocemente quindi andiamo in modalità oggetto ok e qui costruiamo una specie di pedone quindi al solito prendiamo il nostro cilindro 8 vertici facciamo la tecnica alta H se ce la riusciamo rispettiamo facciamo no shift H shift H sbagliato alta H quindi dobbiamo selezionare questo facciamo shift H per vedere soltanto lui ok allora questo qui cerchiamo di modellarlo come abbiamo visto 5 minuti fa quindi vedete che è un pochino grasso quindi faccio lo alziamo SZ facciamo un po' più grosso poi andiamo in col tab andiamo in modalità modifica ctrl R andiamo a selezionare vedete mi muovo il mouse per vedere dove selezionarlo e gli faccio un tot di tagli ad esempio in questo caso facciamo 6 invio tasto destro ok poi a questo punto facciamo un piccolo proviamo elaborare questa cosa per fargli assumere quelle cose che dicevamo prima quindi facciamo A per tornare tutto poi andiamo con alta tasto destro del mouse e magari sfruttiamo quella cosa del proporzionale con O vedete e facciamo un S ok e poi magari facciamo una struttura un pochino così arbitraria uno sgorbio diciamo era solo per avere diciamo una cosa così per dire questa cosa qua potrebbe essere lui ora se noi facciamo alt H così e poi facciamo alt H ricompare la tastiera quindi vedete che il nostro pezzo è abnormemente grosso quindi noi cosa facciamo lo rimpiccioliamo in modo tale che abbia che più o meno possa starci su un pezzo quindi andiamo con 7 per vedere dall'alto vedete che è ancora troppo grosso lo ristringiamo un po' in modo tale che possa stare dentro vedete che io lo sposto con il G con il G lo posso spostare G grab e poi faccio S per cercare di farlo diventare più o meno delle dimensioni che ci stia tutto sulla tastiera no? quindi vedete questo qui è un pedoncino ah prima di metterlo magari facciamo l'assegnazione del colore qui sul colore siete riusciti tutti ad assegnare il colore mi sembra no? allora per il colore cosa facciamo? lo vediamo veramente quindi andiamo in nel materiale questo e anche in edit mode possiamo dire la diffuse e scegliere un colore dici ah beh se usi il proporzionale vedrai che vengono un pochino più eleganti io qui ho fatto come vedi ho fatto proprio due due giri in croce ah se proprio tra parentesi se volete una cosa ancora più elegante perché non utilizzi il riquadro dimensioni sarebbe quale questo qua la scala dimensioni questo anche sì c'è un come volete se con questo riquadro qua riuscite avere la risoluzione esatta ognuno poi usa quello che gli viene più consono o che si ricorda in quel momento credo che eh boh ah ecco stavo dicendo un'altra piccola tecnica che non ho fatto vedere nei filmati è che vedete che appare tutto molto squadrato questo questo pedone no sì un idrante vabbè ma possiamo farlo leggermente più potremmo provare a vedere come viene eh ammorbidendo un po' le linee c'è proprio un comando qua che magari possiamo provare a vederlo ombreggiatura e forse no levig possiamo levigarlo un pochino non è detto che venga bene per questi oggetti infatti io non l'ho fatto vedere però se facciamo leviga viene un pochino più tondo però in questi casi come dicevo in alcuni altri casi rende meglio tipo sulle sfere no non va bene piatto teniamocelo lo poli puro la levigazione però non funziona allora stiamo dicendo vogliamo prendere questo oggetto e allinearlo su una di queste tabelle di queste di questi quadratini allora selezioniamo beh diciamo che low poli conviene avere in realtà averlo così se vogliamo levigare gli spigoli in realtà dovremmo avere molti più vertici quindi dovremmo lavorare molto sul aggiungendo vertici quindi per esempio all'inizio quando abbiamo detto 32 abbiamo portato 8 dovevamo lasciarlo 32 si otteneva una cosa oppure potremmo mettere molti molti più vertici solo che essendo low poli io sto cercando di farvelo proprio così cioè praticamente è una caratteristica del low poli di essere molto squadrato poi magari a un certo punto vi farò vedere anche qualcosa di più levigato ma non oggi ok l'altra idea per fare il low poli era anche di fare delle cose che fossero molto veloci da costruire e quindi ideali per un principiante quindi spero che voi appreziate che vi faccio fare dei lavori diciamo in cui in teoria dovreste impiegarci pochi minuti anche se ho visto che alcuni di voi ci hanno impiegato delle ore giusto? quanto ci avete impiegato a fare i pezzi? Un pomeriggio ecco il concetto però qual è? è che se per caso doveste rifare di nuovo questa operazione che tra l'altro io vi invito a rifarlo di nuovo una volta che se avete lo strumento se avete conoscenza dello strumento dovreste riuscire a rifare queste cose molto più velocemente ok Gigliola dice di cliccare su registro presenza e così almeno abbiamo indicazioni registro presenza e quella c'è proprio comunque l'importante è poi arrivare alla fine adesso l'idea è la primissima volta che usate una tecnica un tool è frustrante dicevo ma se riuscite a superare la frustrazione poi dopo vi da molte soddisfazioni allora andiamo sulla nostra scacchiera tra l'altro Eva ha fatto degli scacchi molto belli sì forse ci avrà impiegato anche un pochino di tempo ma non credo tantissimo quanto sei impiegato per i tuoi scacchi quelli che hai fatto visto che hai detto un'ora allora andiamo diciamo sulla scacchiera andiamo in modalità modifica e poi qua l'idea è vedete che è selezionato un 20 minuti per fare quella cosa lì è stata abbastanza veloce dicevo l'idea è quella di selezionare tutte le facce superiori quindi seleziono una faccia magari selezioniamo qui dove dice faccia selezioniamo una faccia e poi qui andiamo a dire seleziona simili con planare e quindi ci seleziona tutte le facce di sopra una volta selezionato tutte le facce di sopra io ho fatto un w sostanzialmente il shortcut che sarebbe un suddividi e ho fatto suddividi suddividi gli spigoli selezionati in questo modo vedete che ho ottenuto il doppio di praticamente ogni ogni faccia è stata raddoppiata questo l'ho fatto vedere non nel nel video però in questo modo qual è l'obiettivo che ho ottenuto che ho messo che c'è uno spigolo esattamente al centro di ogni di ogni di ogni quadratino dopodiché a questo punto entra il fantomatico calamita di cui mi stavate dicendo che avete combattuto allora intanzitutto togliamo il proporzionale e abilitiamo la calamita allora la calamita l'abilitiamo sul sulla faccia per dire cominciamo sulla faccia più vicina facendo questo vuol dire che quando voi selezionate allora andiamo a selezionare il nostro oggetto e poi lo abbassiamo vedete che lui automaticamente si è agganciato alla faccia si è calamitato alla faccia però si è calamitato la faccia più vicina quindi se io per dire lo faccio anche col G ed è che col G lui si calamita sulle facce e lo sto muovendo su tutta la superficie comunque la cosa più importante è riuscire a calamitarlo in modo tale che sia alla stessa altezza della 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 scacchiera dopodiché l'altra cosa è di calamitarlo invece sul centro di queste cose quindi per calamitarlo al centro tra parentesi una cosa ecco visto che qualcuno prima mi aveva detto di usare questi questi riquadri potremmo approfittare dei riquadri per bloccare la posizione Z ad esempio così ormai sappiamo che lui l'altezza sua è giusta e quindi è inutile perdere tempo rovinarsela l'altezza è 0,5 e finisce lì quindi a questo punto se noi calamitiamo anziché sulle facce andiamo a calamitare anziché sulle facce andiamo a calamitare sul sul vertice e poi anche il più vicino adesso dovrebbe già funzionare nel senso che a questo punto se noi facciamo un G di questo oggetto vedete che lui ce lo sposta ce lo avvicina sì però non è ancora quello giusto quindi avevamo fatto un altro trucco per vederlo quindi non sul più vicino al centro forse abbiamo visto vero? aggancia il centro sul bersaglio quindi a questo punto se facciamo così ecco vedete è quello giusto quindi il centro del mio oggetto è calamitato sul vertice e visto che il vertice era proprio al centro sono sicuro di aver messo il pedone esattamente al centro come avete visto quello che ho fatto vedere è ancora leggermente diverso da quello che ho fatto sul video per due motivi primo perché non me lo ricordo con precisione perché sono un po' dislessico e secondo perché obiettivamente in Blender le stesse cose si possono fare in diversi modi comunque ecco poi ricordatevi una volta che avete finito il la cosa che vi interessa togliete subito la calamita perché se no vi succedono cose non molto semplici ok vi è chiaro quindi l'allineamento dei pezzi su altri pezzi notate che molte persone che usano Blender non le sanno queste cose oppure le sanno male però io trovo che il fatto di calamitare quindi di poter mettere dei pezzi in maniera tale che siano allineati con altri sia una cosa molto molto potente perché evita di dover fare se voi non facevate ad esempio se qui faccio Shift D per duplicare sto cosa qui è duplicato questo oggetto se devo se fosse stato in un altro posto e dovesse allinearlo dovrei cominciare a dire allora dovrei cominciare ad abbassarlo lungo qua però devo andare un po' ad occhio no? quindi sono giusto no? supponiamo di sì poi dovrei cambiare prospettiva e allinearlo vabbè poi tra l'altro se volessi proprio allinearlo al centro di un oggetto diventa un po' brutto perché dovrei andare ad occhio quindi l'occhio per quanto preciso esso sia posso anche essere così però non è che sia precisissimo potrei dire così allineato però siamo sicuri che sia veramente allineato non lo sappiamo invece questo pedone messo in quel modo lì è perfettamente allineato ma lo snap ripeto secondo me è più facile usarlo forse come l'abbiamo visto adesso e quindi prendete lo snap fate prima lo snap sulla faccia quindi prendete l'oggetto lo snappate sulla faccia e quindi ecco tra parentesi ecco qua un'altra cosa che può essere antipatica è che lui lo mette ve lo affossa no? però è perché ho messo il centro no? ecco dobbiamo mettere non il centro ma più vicino perché così più vicino lui ecco vedete che ve lo mette appoggiato quindi importante scegliere della calamita sia il tipo in questo caso quando lo voglio appoggiare sulla faccia metto faccia e poi se lo voglio solo appoggiare metto più vicino e se invece come nel video ho messo il centro no? e lui l'affogamento però ecco proprio per evitare casini è per questo che vi ho è per questo che vi ho detto che magari una volta che siete riusciti ad allinearlo verticalmente giusto magari lo bloccate la z e poi dopo procedete all'altro allineamento la 7 e l'altro allineamento è quello sul vertice e a questo punto il centro e a questo punto zaffa siete sicuri di allinearlo esattamente? certo io ho fatto tutto questo perché quando facevo tutte le mie lezioni in passato e mettevo tutto a mano si trova sempre qualcuno che voleva avere l'ordinamento millimetrico nel momento in cui invece volete non avere l'ordinamento millimetrico va bene anche il meccanismo a mano però c'è da dire che in questo caso l'allineamento verticale invece no l'allineamento verticale è proprio antipatico che voi mettiate un pezzo degli scacchi adesso qui è bloccato se voi mettete un pezzo degli scacchi che in realtà è affogato oppure è sospeso sulla scacchiera questo è poco realistico quindi non non è bello e se anche cercate di metterlo eccetera rischiate sempre di fare un errore quindi è utile fare questa cosa ok allora sì dicevo dipende da quello che si vuole costruire adesso noi la scacchiera l'abbiamo fatta come primo esperimento e comunque vi ho chiarito un po' di cose con questo con questo incontro oppure ci siete ancora è stato utile al momento o i video sono sufficienti dunque il video spero che lo stia scaricando adesso se non c'è chiedo scusa ma credo che lo stia facendo dicevo per le prossime settimane innanzitutto chi non è riuscito ancora a fare queste cose non si preoccupi può provare a rifarli vi sì vi pregherei di pubblicare tutto su SketchUp se riuscite sapete tutti come pubblicare su SketchUp no SketchFab si chiama no? era SketchFab? ecco SketchFab è un sito SketchFab dove vi dovete registrare e vi permette di scaricare dovete fare sign up e poi vi permette di fare l'upload di un modello e il modello che potete scaricare tra l'altro potete anche registrarvi con Facebook che vuol dire che non dovete fare neanche la registrazione e una volta esempio qui io dico che mi registro con Facebook ok ecco una volta che siete entrati quindi a questo punto con Facebook e tutti voi dovreste averlo fate upload e poi segliete un file e accetta direttamente il formato .blend quindi il vostro file .blend lo potete scaricare e visto che ci siamo solo un trucco che lo dico perché poi lo dirò poi dopo quando avremo delle texture ma quando fate il non mi ricordo più dove era che c'era la cosa che prometteva di incorporare dati esterni ecco quando poi avrete delle texture vi pregherò poi del punto blend di mettere anche l'incorporo automaticamente ecco delle texture perché così eventuali texture vengono riportate anche nel punto blend e quindi possono essere caricate o se le mandate via mail insomma però adesso per quello che facciamo noi non è un problema questo però su Sketchfab potete prendere il vostro punto blend sapete no cos'è un punto blend una volta che avete la vostra schiera fate file save salva come e quello diventa un punto blend una volta che avete pubblicato questo file sotto Sketchfab il file è automaticamente pubblicabile anche su Facebook nel senso che vi viene un dove è questo qui sono i miei no ecco vedete questa qui è una cosa che ho pubblicato questo modello esattamente come in YouTube c'è la possibilità di dire da qualche parte share no nel momento in cui c'è share c'è un indirizzo questo copia e questo indirizzo potete inserirlo direttamente questo sito questo indirizzo se lo mettete ad esempio su Facebook in un post compare automaticamente ora io vi prego soltanto quando voi mi mettete fatto sul su Google Classroom se per caso avete la cortesia di caricare il link del vostro progetto di questo Sketchfab in questo modo se per caso avete fatto io posso anche andare direttamente su Sketchfab e in teoria dovrei potermi anche scaricare il video non so se c'è possibilità a download ecco accertatevi soltanto se lo ritenete opportuno di mettere free nel download quindi nella proprietà del vostro Sketchfab c'è la possibilità di dire no al download oppure free no vuol dire che nessuno può scaricarvi il vostro punto blend però mi interessava poter scaricare le cose che pubblicavate in modo tale da poterle controllare controllare e eventualmente il discorso di Classroom è dare un punteggio quindi l'idea è che il compito che avete fatto finora avrete tempo ancora una settimana o due in modo tale che mettetevi pure il vostro Sketchfab e poi darò il punteggio allora il discorso del punteggio mi sembra che i punteggi si diano in centesimi quindi se allegate il progetto in Classroom è lo stesso sì va bene solo che ho visto che alcuni proponevo di metterlo sotto Sketchfab in modo tale che se volete poi condividerlo anche su Facebook siete pronti se non volete metterlo su Sketchfab non è un problema però basta che vi mettiate in Classroom ho il link su Sketchfab o direttamente il progetto e dicevo il punteggio massimo si può dare in Classroom è 100 centesimi e direi la cosa che io vorrei stimolarvi più che ripetere esattamente le cose che faccio io e se riuscite anche a fare qualche cosa di diverso quindi se ho già visto che alcuni di voi hanno fatto dei pezzi molto creativi quindi se fate una cosa esattamente identica al video va benissimo e diciamo che diamo 80 punti se qualcuno di voi riesce a fare qualcosa di originale gli diamo un punteggio più alto quindi era un tentativo di gamification per cui voi magari avete lo stimolo a creare qualcosa di nuovo proprio con le vostre mani sì allora sulle estrusioni dunque una figura piena che puoi estrudere non ho ben capito cosa vuoi fare però ci sono tecniche di estrusioni partendo da delle figure cioè estrudere vuol dire tipo basso rilievo che tu prendi delle sezioni di questa superficie e la incanali la incunei la scavi di quello che dici comunque c'è proprio un comando di estrusione su blender magari puoi dunque sì ah tu dici per fare il cavallo ma diciamo che in blender normalmente non si non si non si parte da un disegno bidimensionale e si estrude per tenere quell'effetto e si si fa magari l'estrusione ma Eva Cry ecco una cosa che potrebbe fare se c'ha voglia è di fare un piccolo tutorial di estrusione che credo che sia quello che sta dicendo giusto Eva sta dicendo qualcosa di simile anche se non so se sia proprio esattamente quello che ci aveva in testa quindi io direi visto che adesso sono le undici direi di finirla così nelle prossime due settimane in attesa della nuova puntata io pubblicherò altri video per far vedere delle altre possibilità di estrusione e l'idea era quella di cominciare ad andare avanti in strutture che non siano solo degli scacchi ma anche delle altre cose meno diciamo quadrate cubiche quindi in particolare volevo proporvi proprio i famosi alberelli che erano i simboli del corso ve li ricordate gli alberelli ecco quindi in questo modo andiamo sì sì in realtà non sono mentre questi scacchi li ho di fatto creati io infatti si vede perché quelli che vi ho fatto vedere sono dei mezzi sgorbi ma comunque sono molto interessanti gli alberelli partirei comunque da dei tutorial che sono disponibili gratuitamente su youtube che ho trovato che fanno vedere appunto come costruire proprio questi galberelli e queste cose in un modo molto semplice e a questo punto seguo questi tutorial e ve li riporto cercando proprio di fare in modo tale che riusciate a seguirli perché voi dite ma se ci sono già perché non seguo l'originale un po' perché sono in inglese e quindi so che alcuni di voi hanno difficoltà a seguire delle cose in inglese e un po' perché magari questi tutorial vanno un po' in fretta e quindi danno per scontato un po' di cosette che noi anche diamo per scontato ma poi ci incontriamo e quindi risolviamo va bene allora ah ecco questo può essere interessante potete fare proprio ecco questo non serve male sapete fare una cosa tipo avete presente tipo minecraft cioè fare proprio una scacchiera dove sopra ci mettete proprio delle strutture ah beh poi lo vediamo adesso io siamo già fuori tempo massimo non so se Gigliola vuole dire solo una parolina o qualcosa del genere o anche Eva non so se c'è e poi direi che se no facciamo che stoppiamo e adesso provo a vedere se il la registrazione ha funzionato e se ha funzionato verrà pubblico va bene allora direi buona serata e grazie per la partecipazione grazie a tutti Grazie.